Buongiorno a tutti, oggi preparo il patè di olive nere salate. Mi occorre 200 grammi di olive nere snocciolate, 45 ml di olio d'oliva, uno spicchio d'aglio e tre filetti di acciuga. Iniziamo la preparazione in un robot verso le olive snocciolate, lo spicchio d'aglio e i filetti d'acciuga e l'olio. Una volta messo tutto, frullo. Ed eccolo pronto, avete visto com'è veloce, lo versiamo in una bowl. Una volta pronto, possiamo fare delle bruschette. Ne preparo una. Altrimenti si può conservare in barattoli sterilizzati. Pronto da gustare, grazie della visione. Alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace. Grazie a tutti.